Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi il nuovo video a tema Harry Potter e sarà un video unboxing e un video acquisti, un po' un miscuglio tra le due cose. Ma prima di cominciare vi ricordo ragazzi di supportare Pampling che in questo periodo ha lanciato nuove offerte come ad esempio tutte le maglie a 9 euro l'una e tutte le felpe a soli 15 euro. Quindi ragazzi mi raccomando sosteniamo Pampling e sotto trovate il link con tutti i dettagli. Ma detto questo ragazzi parliamo di acquisti e nuove arrivi a tema potteriano e quindi ragazzi non si può che cominciare con un pacco bellissimo pieno di artwork fantastici che mi sono appena arrivati dall'Inghilterra. Perché sono stato contattato da un artista, Kevin Cantwell, che mi ha chiesto se avessi voglia di recensire e di mostrarvi alcuni dei suoi lavori. Perché lui assieme a suo padre hanno appena lanciato un sito dove è possibile acquistare delle stampe di altissima qualità con delle opere originali che per ora presentano personaggi del mondo, delle serie tv, dei film, dei telefilm e proprio la prima serie è dedicata a Harry Potter e quindi hanno avuto l'idea di mandarmele a me in modo da potervele mostrare e ragazzi sono bellissime. Queste stampe sono tutte firmate a mano, numerate, ci sono diverse serie, alcune limitate, altre invece aperte a tutti quindi non limitate ma in ogni caso arrivano sempre complete con certificato di autenticità, con firma dell'artista e ragazzi ora ve le vado a mostrare, sono davvero molto molto belle. Esistono in due formati che è possibile acquistare, i prezzi sono molto molto contenuti e sono in formato A3 e A4. E naturalmente mi hanno anche fornito un codice sconto per voi che è Antonio10 per avere uno sconto del 10% sul vostro primo ordine. Quindi ragazzi, naturalmente sotto in info box troverete tutti i link per poter visitare questa galleria virtuale. E ragazzi, ecco qui il pacchetto, ce l'ho qui davanti a me, io l'ho già aperto perché naturalmente sono anch'io in semi quarantena, faccio solo casa e lavoro e quindi non ho saputo resistere, perdonatemi. E però adesso ve li vado a mostrare perché sono davvero molto molto belli. arrivano ragazzi in ottime condizioni perché all'interno è presente del cartone, ci sono tutti gli avvisi sul pacco di non piegare la confezione, quindi sono arrivati in ottime in ottime condizioni e io direi che adesso vi mostrerò per primo il mio preferito che è questo qui, è questo in formato A3 della professoressa McGranit. Guardate quanto è bella questa stampa, quest'artwork. Sono tutti lavori originali di Kevin e quindi ragazzi sono davvero di altissima altissima fattura, la stampa è bellissima, la carta è pesante e sul retro ecco che troviamo il nostro certificato di autenticità. I prezzi, io li ho guardati, sono stati sul sito, sono davvero molto molto bassi, quindi sono assolutamente alla portata di tutti. E poi come potete vedere qui sotto abbiamo la firma dell'autore e poi qui abbiamo anche la data. Ad esempio questo è stato fatto il 3 marzo 2020, quindi sono super recenti. Purtroppo questa collaborazione doveva nascere prima, ma a causa del coronavirus c'è stato un casino anche con le consegne naturalmente, quindi sono arrivati solamente adesso, ma visto che la sua attività si svolge online, secondo me è comunque giusto farveli vedere e darvi la possibilità di acquistarli e di usare il codice sconto. E ragazzi adesso però andiamo avanti perché me ne hanno mandate davvero tante, praticamente tutta la collezione di Harry Potter e abbiamo quest'altra che invece è quella con Fuffi, il cane a tre teste che trovo davvero molto molto bella. Anche in questo caso abbiamo i colori di Hogwarts sullo sfondo, abbiamo il blu, il verde, il rosso e il giallo e devo dire che è davvero molto molto bello. Anche qui abbiamo il certificato di autenticità ed è firmato e datato anche questo qui e poi questo che sicuramente farà impazzire molti di voi, guardate quanto è bello, si tratta di Luna con il suo copricapo da leone e ragazzi è davvero bellissimo anche questo. Infatti sono molto combattuto tra questo e quello della Megranit, non appena riaprirà Ikea, sicuramente andrò ad acquistare delle cornici così da poterli mettere a pesi qui in camera mia perché sono davvero molto molto belli, di altissima qualità davvero, la carta è molto pesante e questa qui sono sicuro che piacerà a tanti tantissimi di voi e poi mi hanno detto che hanno anche lanciato un giveaway su Instagram, quindi vi lascio sotto anche il loro canale Instagram così da poter partecipare all'estrazione di una stampa anche per voi e non è finita qui perché all'interno c'erano anche quelle in formato A4. Eccole qui e si tratta di altri soggetti ancora, in questo caso ecco che abbiamo Dobby, anche questa molto molto bella, mi piace questo suo stile, questi colori così drammatici, questi toni drammatici che utilizza e per chi non volesse opere di Harry Potter usciranno nuove linee dedicate anche ad altri fandom, quindi non solamente Harry Potter, per questo vi consiglio appunto di seguirlo e poi guardate qui abbiamo il Professor Piton, guardate quanto è bella questa immagine, quanto è bello questo ritratto, è davvero un grandissimo talento e poi ecco qui che abbiamo un'altra opera ancora che invece è quella con Fanny. Ragazzi io davvero non so quale scegliere e non posso appenderle tutte, ne vorrei appendere almeno due, quindi fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri due preferiti e poi magari vi mostrerò il risultato finale quando li incornicerò, li metterò appesi nella mia camera. Ragazzi mi raccomando tutti i link sotto in info box, codice sconto Antonio10. Ma adesso ragazzi passiamo ad un altro acquisto che vi ho già mostrato su Instagram. Per chi non mi seguisse ancora, ragazzi mi trovate come Antonio.seria, lì soprattutto in questo periodo pubblico magari qualche spoiler in più su quello che poi arriverà sul canale e proprio di recente ho pubblicato una foto di un acquisto che bramavo da tantissimo tempo. In poche parole si è scoperto che uno degli oggetti di scena di Harry Potter, un oggetto molto molto emblematico, è appartenente ad un normalissimo set di bicchieri antichi che erano molto diffusi in Inghilterra. E sto parlando del calice che viene mostrato durante la lezione di trasfigurazione della professoressa McGranit. Quando la professoressa trasforma un uccello in un calice con la formula famosissima Ferraverto, beh, quel calice che vediamo nel film in realtà è reperibile sul mercato perché, come saprete tutti, quando viene realizzato un film ci sono delle persone che si occupano di andare magari per mercatini a trovare oggetti antichi, oggetti da poter usare sul set. E questi oggetti naturalmente sono reperibili anche da noi comuni mortali con un pizzico di fortuna. E proprio questo calice fa parte appunto di un servizio di bicchieri italiano che era abbastanza diffuso molti molti anni fa nel Regno Unito. E ragazzi, questi bicchieri essendo soffiati a mano, essendo bordati in oro, hanno comunque un certo valore. Un set intero da sei bicchieri può arrivare a costare anche oltre 100 euro. Ebbene, io e la mia amica Cristina, soprattutto Cristina in questo caso, è riuscita a scovare su ebay due di questi bicchieri venduti appunto dall'Inghilterra ad un prezzo abbastanza abbordabile. Stavano attorno ai 50 euro. Quindi abbiamo provato, abbiamo chiesto se fosse possibile spedirli in Italia. Il venditore ha accettato e nel giro di un mesetto tra Dogana, perché comunque sono rimasti bloccati parecchio, parecchio tempo a Torino, poi sono riusciti ad arrivare questi bicchieri e finalmente li abbiamo tra le mani. E per circa 30 euro a testa, anche qualcosa meno, siamo riusciti a portarci a casa questi bicchieri antichi, che adesso vi mostrerò. Eccolo qui. Questo è il bicchiere uguale a quello che abbiamo visto nel film della Camera dei Segreti. E ragazzi, a me piace tantissimo. Sono davvero innamorato. Dalla prima volta che lo vidi, doveva essere mio. Io sono stato dietro a moltissime aste, moltissime offerte, ma non sono mai riuscito a prenderlo, semplicemente perché costava davvero troppo. Un singolo bicchiere si arrivava a pagarlo anche 50-60 euro. In questo caso abbiamo avuto un po' di fortuna e siamo riusciti a portarli a casa ad un prezzo più abbordabile. Questo stesso bicchiere esiste di diverse dimensioni. Questo credo sia un bicchiere da amaro, da vino o d'acqua. No, credo d'acqua. Credo sia un bicchiere d'acqua. E secondo me si avvicina moltissimo alla dimensione di quello che abbiamo visto nel film. Anche perché non abbiamo una prospettiva esatta della dimensione del bicchiere. Ma esiste anche un flute che sicuramente non è quello visto nel film. E anche una versione che credo sia appunto da vino, molto più alta di questa. Almeno alta così, che potrebbe essere quella mostrata nel film, ma non avendone certezza e avendo trovato questi a buon prezzo, io ho optato su questi. Che poi, messo a paragone con quello del film, secondo me potrebbe andare come dimensione. In ogni caso è lui. È la stessa sete di bicchiere. Ha lo stesso tipo di decorazione. Uguale, non cambia assolutamente nulla. L'avete visto già dalle immagini. E ragazzi, questo va di diritto nella mia collezione. Quindi sono super super soddisfatto. Era da tanto che lo volevo. E adesso proverò a scovare qualche altro oggetto del genere. Ma ora mettiamo da parte i prop e passiamo ai pop. Una R in meno che fa la differenza. Il primo pop che vi mostro è questo qui, che ho preso su EMP. E si tratta dell'edizione limitata dell'Emerald Comic Con, quindi della Spring Convention del 2020. Ragazzi, il Comic Con è saltato, quindi non è stato fatto, ma Funko ha comunque rilasciato tutte le esclusive nei vari negozi. E infatti ecco qui la nostra Tonks. Era da tanto, da tantissimo tempo che si aspettava Tonks e finalmente è arrivata. La voce che fosse un'esclusiva per la Spring Convention girava già da tantissimo tempo, almeno da sei mesi. E finalmente abbiamo avuto conferma. Io sinceramente speravo che facessero una versione col becco da papera da anatra, ma purtroppo non è stato così. Ma va bene anche questa edizione qui. Io la trovo molto carina. Diciamo che secondo me il viso non è proprio somigliante al 100%. Ci sono pop, soprattutto quelli dei Comic Con, che sono stati fatti decisamente meglio, sono molto più ricchi di dettagli. Ma in ogni caso, nonostante non sia uno di quei pop che faccia urlare al miracolo, devo dire che è molto molto carino. Io su Instagram avevo detto che volevo smettere di collezionare pop e non ho ancora cambiato ed è al 100%, però fin quando non prenderò una decisione, continuerò ad acquistarli ed aggiungere pezzi alla mia collezione. Nel caso dovessi poi cambiare idea, faranno la stessa fine del Trono di Spade, quindi venderò tutto e mi dedicherò quasi totalmente ai libri e ai prop, alle repliche del mondo di Harry Potter. Semplicemente perché stanno davvero rilasciando troppi, troppissimi pop di Harry Potter e si comincia a faticare a starci dietro ed è diventato semplicemente un accumulare pop senza più quel brivido, quell'attesa che c'era prima quando veniva annunciato un nuovo pezzo, poi si riusciva ad ottenere, si metteva in collezione. Adesso ne sfornano davvero ondate continuamente, arrivano 6, 7, 8 pop nuovi ogni due mesi e a quel punto si perde un po' la magia, quel collezionismo che c'era prima. Però per il momento continuiamo e infatti proprio per questo ho acquistato anche un'altra cosa che mi è arrivata da pochissimo che invece non ho ancora aperto e si tratta del Patronus di Hermione. L'ho beccato non in pre-release quando è stato rilasciato sul sito del Wizarding World anche perché tra commissioni, tra spedizione e tutto viene a costare abbastanza caro sui 35 euro, 40 euro. Io invece l'ho beccato su Amazon da All Your Music e mi è costato se non sbaglio circa 12 euro. Quindi una cifra normalissima per un pop normalissimo. Mi mancano ancora naturalmente quello di Ron e quello di Harry che arriveranno comunque tutti come regular anche qui da noi. in estate dovrebbero arrivare su MP verso giugno-luglio ma intanto mi sono portato avanti il lavoro e ho preso questo qui che adesso andiamo ad aprire assieme. Bisturi alla mano ragazzi e andiamo a tagliare lo scotch del pacco e vediamo com'è questo Patronus. Io ancora non ne ho visti dal vivo quindi sono molto molto curioso. Eccolo qui. Bene, è arrivato in ottime condizioni quindi sono molto contento di questo e devo dire che così a prima vista mi sembra parecchio piccolo il che devo dire che è un bene e non è un male perché temevo fossero troppo grossi e quindi non in proporzione coi pop. Eccolo qui. Oh ragazzi guardate quanto è piccolo. È davvero minuscolo. Però sembra fatto molto molto bene. Eccolo qui abbiamo la lontra che è il pop, cioè è il Patronus di Hermione. È molto molto bello, è trasparente, la testa all'interno è semi cava, non proprio totalmente cava e il corpo invece è pieno. Mi piace moltissimo come hanno utilizzato le varie sfumature di questo azzurrino perché la base è qui, questi fumi sono più chiari, poi abbiamo il corpo leggermente più scuro e alla fine gli occhi e il naso di una tonalità ancora più scura. Sono davvero molto molto carini. E spero però che non facciano tutti i Patronus di tutti i personaggi perché diventerebbe davvero una cosa insopportabile. Però questi tre diciamo che ancora ancora li riesco a tollerare. È davvero molto carino, sono sincero. È davvero molto molto carino. Sinceramente sono molto piccoli e quindi pagarli 30-35 euro semplicemente per un bollino almeno non va. Poi capisco che c'è chi colleziona le scatole con i bollini e quindi li spende. Però a me non va e secondo me 12 euro sono già una cifra più che sufficiente per un pop così piccolo. Però va molto bene così. Fatemi sapere voi cosa ne pensate se continuerete anche voi ad acquistare i pop di Harry Potter e se vi state dedicando anche ai Patronus e cosa ne pensate soprattutto. Sono molto molto curioso del vostro parere. E ragazzi detto questo spero di avervi tenuto 10 minuti di compagnia. Mi raccomando attivate la campanella, iscrivetevi al canale, commentate fatemi sapere cosa ne pensate dei miei ultimi acquisti. E poi in infobox trovate la mia vetrina Amazon con tutti i prodotti potteriani di altri fandom selezionati da me in un negozio all'interno di Amazon. E poi ragazzi trovate anche i link per acquistare gli artwork che vi ho mostrato all'inizio. E poi naturalmente sono a vostra completa disposizione per qualsiasi domanda, dubbio, mi trovate su Instagram molto facilmente e rispondo sempre ai messaggi privati. Detto questo io adesso chiudo il becco come al solito e vi do appuntamento prestissimo con tante altre novità. Ciao!